Segni inequivocabili di erosione, acciaio a vista in uno dei piloni fortemente lesionato, il sopralluogo di domenica dei vigili del fuoco non ha dato spazio a interpretazioni. Il ponte sul fratta Gorzone, lungo la SP91 in località Valli Moccenighe, non è sicuro e va chiuso. Così è stato. Da domenica è entrata in vigore l'ordinanza della provincia, che crea moltissimi disagi nel territorio di Piacenza d'Adige. In attesa del rifacimento già previsto, per ora il Comune ha dovuto attivarsi con soluzioni di emergenza, a partire dal trasporto scolastico, con gli autobus costretti a usare la vicina autostrada Valdastico Sud. Alternativa per gli abitanti dirigersi verso Sant'Urbano, raddoppiando il percorso. La provinciale 91 è la principale arteria di collegamento verso l'est e Monseli, ci ha spiegato il sindaco Primo Magri, che solo venerdì aveva chiuso un'altra spinosa situazione. La sospensione del medico di base, il sostituto in raccordo con il Comune, per due volte a settimana visiterà a Ponso. Peccato che per arrivarci il percorso più comodo passi proprio dal ponte chiuso.